con il simone romagnoli una partita difficile lo sapevate il pisa soprattutto all'arena un avversario ostico da affrontare però avete saputo reagire molto bene anche alle difficoltà si è una partita è stata una partita tosta e molto fisica e molto intensa siamo andati sotto e col pisa è difficile recuperare perché loro sanno difendere bene con intensità ripartire siamo stati bravissimi a recuperarla cercare di vincerla poi negli ultimi minuti la partita si è aperta e quindi poi si sono aperti loro ci siamo aperti noi è finita con un pareggio giusto e noi siamo contenti della nostra prestazione adesso guardiamo avanti guardiamo la prossima una partita giocata comunque con grande intensità dal primo praticamente fino al novantesimo minuto anche un po di nervosismo alla fine piccolo becco con d'angelo sì ma è finito subito su insomma la tensione alta ma non è neanche nervosismo insomma fa parte della partita e insomma va bene così è giusto anche un po che ci sia senti siete ancora lì davanti però vi siete un po inceppati dal punto di vista delle vittorie pensi che sia soltanto una cosa temporanea dovuta magari anche alla casualità agli avversari che affrontate oppure c'è stato un piccolo calo di prestazione da parte vostra ma direi proprio che un calo di prestazioni non c'è stato guardando le nostre partite mi sembra abbastanza evidente che non ci sia un calo di prestazioni non sempre arriva la vittoria però direi che le prestazioni ci sono e questo è quello che dobbiamo continuare a fare